ciao ragazzi siamo tornate mai dire di dieta la mia cucina che invita un sacco di amici a venire trovarmi parliamo di cibo di nutrizione di proprietà organetiche e mai dire diete noi non diciamo diete qua noi diciamo nutrizione e il mio amico oggi è pedrico grilli che è venuta per trovarmi ciao ben ritrovata per ritrovate alle nostre amiche che ci guardano è un piacere ancora una volta essere tuo ospite allora fede quando ti siedi a tavola no onestamente è o non è uno dei momenti più piacevoli della giornata guarda il pranzo per definizione è un momento di distensione rilassamento deve essere consumato con calma fuori dai problemi e avere proprio quella giusta pausa per poter gustare tutte le pietanze ma poter proprio rilassarsi mentalmente insieme al cibo e infatti è proprio questo noi ragazzi dobbiamo sempre affrontare se noi mangiamo troppo in fretta o quando siamo in piedi nostro cervello quasi non registra la quantità di cibo che stiamo ingerendo e questo è un rischio che mangiamo più del dovuto e anche anche troppo secondo me troppo aperitivi dove si fa prima l'aperitivo e poi parla il pasto invece qui vogliamo invitarvi non solo di mangiare in modo più gustoso ma mangiare in modo che è più rilassato e per rilassarci c'è anche una bel pietanza di base che secondo me è ma anche a mi piace sempre però la mattina essendo americana mi piace da morire qual è la ricetta oggi facciamo degli spiedini di frittata con del pomodoro una ricetta molto facile per dare una forma diversa alla frittata che insomma è un elemento che piace molto a noi italiani in tutte le forme in tutte le varianti quindi un'idea in più piace anche in spagna si chiama la tortilla la tortilla piace in america si chiama francia si chiama omelette perché lo secondo sai secondo me perché ogni tanto si rompono le uova e ci devi fare qualche cosa si fa una frittata si fa una frittata in tutti i sensi facciamo proprio la frittata allora andiamo a scoprire insieme ragazzi l'ingrediente di questa ricetta per fare una bella frittata insieme a federico grilli ci serve un uovo più un albume una zucchina romana un pomodoro rosso medio mezzo cipollotto 50 grammi di tonno al naturale prezzemolo origano siete pronti andiamo a fare la nostra frittata con federico allora intanto tagliamo un po il cipollotto lo mettiamo nella padellina antiaderente con un paio di cucchiaini di olio naturalmente queste ricette cerchiamo con i condimenti di essere un pochino parchi ma usiamo magari aggiungere un po una tazzina di acqua che ci aiuterà quindi ad ammorbidire la cipolla gli ingredienti piuttosto che fare soffriggere quindi mettiamo la la nostra il nostro cipollotto poi tagliamo delle zucchine in questo modo e le andiamo a mettere all'interno le lasci larghi le lasciamo un pochettino rosolare intanto andiamo a sbattere quindi le uova possiamo usare un paio di uova oppure come abbiamo detto negli ingredienti fare un uovo intero e un albume infatti questo tuorlo è molto diciamo demonizzato invece ci sono parecchi nutrizionisti che sono molto pro uovo che dicono che l'uovo è un veramente un fonte proteica di altissima qualità ed è in più che non è così dannoso il tuorlo ovviamente non dobbiamo diciamo strabondare con le uova durante l'arca della settimana però ogni tanto mangiare un bel tuorlo fa pure bene per il cervello esatto allora adesso noi acceleriamo un po i tempi per far vedere ai nostri amici come si fa una frittata veramente se mai diridete lo sai che abbiamo la formula magica abbiamo il forno magico il fornello magico allora gila andiamo a inserire del tonno al naturale sai quello che non è conservato nell'olio sempre perché cerchiamo di ovviamente fare ancora attenzione un po a tutte le componenti dopodiché lasciamo andare la nostra frittata e diciamo fin qui ok perfetto e nel frattempo sai che facciamo federico andiamo proprio di scoprire le proprietà nutritive organelettiche del star di questa ricetta uova la loro principale qualità è infatti contenuti proteine nobili di alto valore biologico complete cioè degli aminoacidi essenziali che vengono impiegati dal nostro corpo per il mantenimento e la costruzione delle strutture cellulari e per quanto riguarda il colesterolo l'uova ne è di certo ricco ma le lecettine contenute nel tuorlo favoriscono l'attività dell'hdl cioè del colesterolo buono bisogna anche considerare che il colesterolo che si misura nel sangue non è direttamente connesso a quello che si trova negli elementi come le uova ma viene formato anche dal fegato a partire anche dalle zuccheri e cereali raffinati il pomodoro originario dell'america centrale l'identichetta nutrizionale del pomodoro si profila perfettamente alla necessità del consumatore del terzo millennio infatti è povero di calorie solo 17 per cento grammi adattandosi perciò alle moderne diete ipocaloriche è ricco di minerali come ferro zinco selenio fosforo e calcio di vitamine come quelle del gruppo b c d e soprattutto è diuretico digestivo e soprattutto gustoso e molto versatile per le sue proprietà medicamentose il pomodoro è consigliato ai costipati essendo un buon stimolatore intestinale a diabetici per la povertà in zuccheri agli ipertesi per la scarsa quantità di sale e a chi è in sovrappeso è utile a tutti coloro che non vogliono trascurare la propria salute avete visto come il cibo può diventare il nostro migliore alleato per la salute per l'antiinvecchiamento per la nutrizione per l'energia allora è finita la tua frittata nel frattempo allora la frittata abbiamo terminato di cuocere la possiamo lasciare raffreddare come vedete andiamo a tagliarla a cubotti a quadratoni insomma come meglio ci piace poi prendiamo il classico spiedino per andare ovviamente a fare la carne normalmente andiamo proprio a riempire la nostra frittata eccola qua e ci andiamo a inserire una fettona di pomodoro ora se volete farla ancora più gustosa vi consiglio di saltare i pomodori con un po di origano e un filino di olio in padella li andiamo ad ascoltare insomma e li rendiamo un pochettino più gustosi magari anche con dell'origano fresco possiamo fare la frittata per averla più alta in una padella ancora più stretta così avremo diciamo una frittata un pochettino più cicciotta cicciotta come quella super cicciotta penso sempre alla tortilla spagnola che è altissima sembra una bistecca e allora in questo modo ragazzi abbiamo la possibilità veramente di mangiare anche con gli occhi perché noi parliamo sempre quanto è importante mangiare con gli occhi guardate questi spiedini che sono non solo belli ma anche buoni e nel frattempo andiamo a ascoltare un consiglio della nostra nutrizionista del cuore Sasha Sorrentino Ciao ragazzi sono sempre qui con Sasha Sorrentino Ciao Sasha Ciao Giri Tutto bene Allora parliamo di cortisolo un eccesso di cortisolo questo eccesso di cortisolo perché mi riduce la qualità del sonno? Beh se dormo poco o male hanno fatto un sacco di studi soprattutto anche gli americani dove hanno fatto dormire delle persone per tanto tempo altre le hanno fatte dormire per poco tempo hanno messo poi una tavola imbandita da una parte dei cibi sani dall'altra dei cibi junk food e hanno visto che chi dormiva poco tendenzialmente si fiondava poi sul junk food questo perché è proprio dimostrato che chi dorme poco o male introduce fino al 30-40% in più di calorie inutili durante la giornata infatti non stiamo parlando di spinaci bolliti merluzzo alla piastra noi stiamo parlando di patetine dolci esatto caramelle e tutto quello che sarebbe cibo spazzatura esatto e così perché il cibo che costa poco è quello poi come dicevamo prima il junk food cioè quello che alla fine trovi sempre in offerta riesci sempre a riempire o nelle macchinette esatto nelle macchinette a lavoro che dice oh mi manca qualche cosa cioè patetina discotto dolcetto caramella esatto è molto più difficile mangiare bene che mangiare male diciamo così perché le scelte cioè è difficile proprio trovare del cibo salutare ecco perché noi abbiamo fatto mai di rietta per diversi motivi le ricette che stiamo facendo qui insieme sono ricette che posso anche cucinare surgelare portare al lavoro con me perché ragazzi se io pianifico la mia nutrizione durante l'arco della giornata con consapevolezza io secondo me è più facile è un metodo esatto è un metodo è uno stile di vita ma su questo libro vedrete 21 giorni per la ragazza a forma di mela o anche ragazzo e 21 giorni dedicato a quella a forma di pera per mangiare di più con gusto ma meglio ma meglio e con tanta energia ritorniamo alla nostra prossima ricetta insieme e vediamo come sta procedendo Federico anche te tu sei radiofonico e sei un food blogger però qui a MyDiriDieta hai visto quanto è importante scegliere quello che metti in bocca? è molto importante e soprattutto trovare l'abbinamento quindi i colori dedicare un po' di tempo all'impiattamento per avere una gioia negli occhi e avere la sensazione di un gusto in bocca ancora più ricco magari anche se stiamo seguendo una dieta quindi sarà più piacevole sì sì e qua siamo sempre qua con voi un sacco di amici un sacco di professionisti che vengono per aiutarvi ad affrontare la tavola con la consapevolezza e la convivalità perché quando vediamo un piatto così bello ci viene voglia non solo di nutrire noi stessi ma anche i nostri amici baci dalla G non solo di nutrire noi stessi